Ciao, sono Valerio Diaco e sono un imprenditore nel settore dell'estetica dal 2012. Quella che è sempre stata la nostra principale specializzazione è l'epilazione, quindi oggi voglio parlarvi di Starpill. Quando abbiamo iniziato a inserire la cera brasiliana all'interno della nostra selezione di trattamenti in questo centro estetico dal quale vi sto parlando, avevamo riscontrato da subito alcuni aspetti positivi che sono quelli propri della cera brasiliana rispetto ovviamente alla cera classica, però c'erano diverse criticità. Primo tra tutti, visto che si parla di lavoro, si parla di impresa, è un problema relativo ai costi. Quindi la cera brasiliana, abbiamo provato diversi marchi, diverse tipologie anche da diversi rimenditori e il principale problema che abbiamo riscontrato erano i costi elevati del materiale unito a degli obblighi di acquisto, quindi oltre alla cera brasiliana spesso alcune case cosmetiche che si occupano di questi prodotti ti obbligano ad acquistare anche tutta una serie di prodotti correlati a volte utili, a volte meno, a volte facilmente vendibili, a volte un po' meno. e sempre relativamente a questo abbiamo riscontrato spesso dei problemi relativi ai tempi di asciugatura del prodotto e quindi al fatto che fare questo trattamento richiedeva molto tempo a volte anche più della cera classica e quindi veniva un po' meno a quello che era ovviamente il principale vantaggio di utilizzare una cera brasiliana rispetto a una cera classica e il fatto che serviva una quantità di prodotto abbastanza elevata e quindi diciamo il costo per il centro nell'eseguire questo trattamento nell'erogare questo servizio era decisamente alto. Cosa è cambiato utilizzando Starbill? Allora innanzitutto acquistando questi prodotti da Beauty and Spa che è l'azienda dalla quale mi riformisco da ormai molti anni anche per tutta un'altra serie di prodotti abbiamo un grosso vantaggio che non c'è nessun obbligo di acquisto di prodotti correlati ma poi ovvio che si acquistano quando servono e solo quelli che servono e quelli che si vendono bene e soprattutto c'è un grosso risparmio per quanto riguarda i costi quindi questa cera nonostante a livello qualitativo sia la migliore che ho provato in questi anni e ne ho provate veramente tante ha diversi altri vantaggi sempre relativi al margine, al guadagno perché alla fine è quello che ci interessa maggiormente primo tra tutti il fatto che seppur costi un po' meno rispetto ad altre marche un po' più cari un po' più magari famosi su certi ambiti è il fatto che si utilizza molto meno prodotto quindi c'è un grosso risparmio da quel punto di vista ma la cosa principale è che è una cera che asciuga veramente in pochi secondi quindi non serve neanche spesso andare a coprire più zone per far asciugare la cera in un altro punto soprattutto nel periodo estivo soprattutto se la temperatura della cabina all'interno del centro è qualche grado troppo alta con Star Peel si stende la cera, si applica con la tecnica che ovviamente viene insegnata e in pochi secondi si può già strappare quindi si risparmia veramente tanto tanto tempo giusto per darvi un'idea parlo delle tempistiche che utilizzo io in cabina ovvero comunque faccio solo da sostituzione quindi non è il mio lavoro principale e ovviamente se l'estetista che fa questo come attività principale sarà certamente più veloce di me giusto per dare qualche numero con la cera brasiliana prima faccio un esempio per fare un uomo petto e schiena diciamo lo stesso cliente con alcune cere che utilizzavamo prima mi richiedeva quasi un'ora di tempo tre quarti d'ora quasi sempre con Star Peel posso tranquillamente fermarmi in agenda mezz'ora riesco a fare petto e schiena complete di un uomo oppure posso pensare a una cliente che ho fatto un paio di settimane fa mi sembra che ha voluto fare tutto il corpo e prima per fare un trattamento del genere quindi un'epilazione total body con la cera brasiliana mi fermavo in agenda un'ora e mezza anche un'ora e tre quarti se non conoscevo la cliente quindi c'era la possibilità di andare un po' più lunghi con Star Peel in un'ora ho finito quindi questo è diciamo naturalmente l'ho dato per scontato un risultato eccezionale pelle subito pulita diciamo quelli che sono i classici vantaggi della cera brasiliana qua li ho riscontrati enormemente di più e l'ultima cosa che ci tenevo a dire è che lavorare con Beautyness fa acquistare diciamo prodotti, le forniture da loro ti garantisce un livello di serenità che non è uguale diciamo che sia a livello di velocità nelle spedizioni, nella preparazione dell'ordine spesso mi capitava di mandare un ordine e riceverlo il giorno dopo cosa veramente impossibile con quasi tutti i fornitori in questo settore come probabilmente se chi mi ascolta fa il mio stesso lavoro ha avuto esperienza con Beautyness fa possiamo contare una consegna garantita velocissima oltre a un'assistenza clienti che ha dell'incredibile provate, fatevi una chiamata mandatevi una mail informatevi sui prodotti che utilizzano e avrete subito un riscontro immediato di quello che vi sta dicendo quindi vi faccio un caro saluto e grazie Star Peel e grazie Beautyness fa ciao 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 ciao